C'è stata in passato la fusione di due stazioni ferroviarie, quelle di Ferrovia Italia e dell'allora San Gritana. Questo ha comportato nel ridisegno della stazione unica la superfettazione di aree che vengono messe a disposizione del comune di Castel di Sangro attraverso questa convenzione, il quale ristrutturerà da un punto di vista delle scelte urbanistiche il territorio creando meccanismi di raccordo e per tutta quanta una parte di aree ormai non più utilizzate c'è la previsione dopo gli opportuni controlli di trasformazione in aree edificabili. Questo di fatto creerà le condizioni non solo per migliorare complessivamente urbanisticamente il territorio di Castel di Sangro, il comune di Castel di Sangro, ma avrà anche un vantaggio per l'attuale TUA e per la regione Abruzzo perché vedrà aumentare il proprio patrimonio dalla trasformazione da aree di risulta ad aree dove c'è la possibilità di costruire. Rispondiamo a questo momento che tutta una serie di indicatori del territorio dimostrano, se è del caso, che abbiamo ereditato una situazione che era insostenibile e difficilissima. Se ci sono auto vetusti che si fermano è evidente che non sono diventati vetusti negli ultimi quattro mesi. Se ci sono difficoltà oggettive correlate al fatto che mancano degli autisti è perché probabilmente ancora non si perfezionano alcune richieste che la TUA ha fatto per avere a disposizione maggiori autobus e maggiore personale.